5, 5, 5, 1. 5, 5, 3, 5? Sì. Pronto! Pronto? Sì, amore. Dove sei? Sì, zia. Sì, amore, sono io. Zia, zia. Dì chi a mamma. Non ti posso trovare, ma dove sei finita? Mi ha lasciato nel nido! Nel nido mi ha lasciato. Al nido ti ha lasciato, amore. Nel nido! Ma chi c'è? Sei da solo? E' nulla. Adesso c'è il lupo. No, quello è l'amico mio. Ah, l'amico tuo, meno male. E digli se è per... Sì, ma tu capisci perché... Tania, mi ha chiuduto nell'armadio! Oh, mamma mia. Ho dovuto scassi intentarlo. Scassi intentarlo. Scassi intentarlo. Scassi intentarlo. Ma senti, ma c'è qualche cibo... No, scassi intentato. C'è qualche cibo, qualcosa? Che... Che plasma. Ah, beh, beh, beh. Che plasma non è... Nessuno c'è ancora nella cucina, non c'è niente. Non c'è niente in cucina, amore. Niente, niente, niente. Eh, ma... Chiami... Puoi chiamare, però... Delivera. Eh, puoi chiamare... Puoi chiamare Just Eat. Just... Chiamare Pizioni Just Eat. Eh! E chiamare Eat. Tu sai cosa gli devi dire, amore? Quando ti dice... Pizioni Eat. E quando ti dice... Vieni subito a Ghiastro. Quando ti dice... Dice i soldini. Guarda. E chiama... Ah! 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 Maledizione! Maledizione! Allora, stai... Allora... Allora, sai che chiamano? No, schiaccia. Chiamano Eat. Chiamano Eat. Eat il pagliaccio. No, è Pizioni Ghiastit. Eh, ecco... Mi chiamano Eat. Ghiasta di nome Eat. Di cognome. Di andare a recuperare i soldi Dalla persona che ti ha lasciato nel nido. Sì, anche in cui mi parla di con il suo pal. Eh? Se posso parla di con il suo pal. Sì, ed è... No, io gli direi di mandare il conto a chi ti ha... Ma me la vedo io poi a casa. Ma me la vedo io, amore. Ma c'è solo il lupo, amico. Non c'è più nessuno. Sì, è il lupo, lupina. Ma te lo farei tutti per uscire che chiedono, amore. Eh, almeno sei in compagnia, amore. Sì, ma faccio un vestito. Eh, un bel pijama a parte. Ma il cazzo tutto è nido. Ma la il cazzo tutto è nido. Non chiedono niente. Non c'è niente. Ma come facciamo tre giorni senza di te, amore? Io non ho le parole. Ma... Non chiediamo più. No, no, mi ti svegli. Non avrebbe... E Susina, amore, come fa con i suoi figli? Eh, chi sono quelli sperati? Con i tuoi amici lì. Eh, ma quelli mica l'aiutano. Eh, qualche cosa la mamma. Mannaggia, la miseria. Mi trovo morti. E in effetti con Susi non so se trovi figli. Ma l'acqua c'è lì almeno? Sì, sì, acqua e chi ne è mille. Eh, freddo ne fa? No. Ci sono le copette. I lettini ci sono? Sì, quello di mamma. Eh, va bene. Allora, amore, buona serata. Buone serate. Mamma mia. Buona serata. E poi ci vediamo lunedì sera, Teddy. Sì, non torno. Io non tornerò. Io non tornerò. C'è il camion. Se vuoi ti lascio le chiavi di casa mia sotto e te ne vai. Sfondo le ponte di Nino con il mio camion. Mannaggia, la miseria. E ma mo' il Green Pass ti scade, secondo me. Ah, lo faccio io. Ti ho ponente là. Ah, è vero che ce l'hai. Ti ho ponente là. Voi che a tutti. Ma hai che faccio tutti i pascololati e i ricchi colori li volono. Bravo, amore. Consumo tutti i pennelli del Nino. Ma vuoi che ti saluto la tua mamma? No, ma non ti prendo nemmeno. Perché, amore? Mi hai abbandonato. E ti saluto i tuoi fratellini. Sì. Ciao, Lodino. Ciao, Teddy. Ciao, Teddy. Anche Grisolina ti saluta. Pensate che il tuo fratello è abbandonato. Ti muore. Ti vengo a prendere domani. Anche io. È tutto chiuduto con i catenacci. Prendo un'ascia. Prendo tutto. Un pezzo di bastone prendo. Teddy, buonanotte, amore. Buonanotte. Fai il bravo, eh. Sì, è bravo. Buonanotte. Buonanotte. Domani ti chiamo, Teddy. Domani. Buonanotte. 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 Grazie a tutti.